Basta sperarci ragazzi, siamo inferiori Siamo inferiori a questo Bari Siamo inferiori probabilmente anche a un'altra squadra Cioè la Turris Che io vedo in campo giocare ed è molto molto più organizzata del Palermo in questo momento Probabilmente siamo semplicemente a pari livello con Aveglione e Catanzaro Non lo so, non lo so Ma comunque andiamo per gradi Appena finita Palermo, Bari 0-0 Palermo non riesce a segnare un gol in 10 contro 11 Non riesce a farne uno Non riesce nemmeno a fare una grande occasione da gol Solo due occasioni nitide Nemmeno troppo 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 grandi come occasioni L'occasione migliore l'ha avuta il Bari al novantesimo Perché il nostro caro mister è riuscito a fare l'unica cosa che non doveva fare Cioè mettere un attaccante per un centrocampista In un momento della partita topico In cui i centrocampisti si rivivano tantissimo Perché in quel momento la partita si era riavvivata Grazie a Floriano che comunque stava agendo come centrocampista Come centrocampista offensivo, come trequartista Ed ero si riuscì a comunicare con lui perfettamente in quel momento Allora lui l'ha tolto perché vincere le partite a Palermo Probabilmente non è ancora stato reso una cosa che si può fare Vincere i big match Perché ormai in questo stiamo diventando Stiamo diventando la Roma dell'anno scorso Che non ha vinto un big match Abbiamo vinto semplicemente con le Monopoli A fortuna Purtroppo dobbiamo dirlo E siamo inferiori Tutti gli otto punti si stanno dimostrando Si sono dimostrati oggi Ma come si sarebbero dimostrati penso anche Tre partite fa Quando il Palermo aveva vinto 4 di fila Sicuramente Perché questa squadra non riesce Non riesce a dimostrare Quando dovrebbe farlo Di essere una grande squadra Non è riuscito a dimostrarlo col Catania Dove abbiamo preso due gol Non è riuscito a dimostrarlo nemmeno adesso col Bari E nessuno Nessuno si merita la sufficienza in questa partita Nemmeno un giocatore Solo Pelagotti perché non ha fatto niente Tranne una parata Solamente lui Nessuno Giocatore allenatore Adesso Mercoledì Ripartono i gironi Gironi di ritorno Contro il Latina Poi andiamo contro Messina e Taranto Se non erro Se queste tre partite Non dobbiamo vincere tutte e tre O comunque almeno fare sette punti Basta E se nel mercato di gennaio Non si riesce a fare Una campagna acquisti buona Comprando un centrocampista Che sappia impostare Perché De Rosi è un gran giocatore Ma non sa impostare bene Lo abbiamo visto L'anno scorso Non si sa perché Se poteva impostare Quest'anno si è scordato come farlo Non lo so Per quanto io voglia bene Lo vorrei sempre in campo Non sa impostare bene Ed abbiamo visto In più occasioni Oggi E non solo E non solo E poi Un attaccante Da mettere con Brunori Perché Soleri Non riesce a giocare con Brunori Mi dispiace Non riescono a giocare insieme Perché si oscurano Da soli Cioè Brunori Viene oscurato da Soleri E Soleri viene oscurato da Brunori Cioè Non riescono a comunicare E poi Un difensore centrale Che sappia semplicemente difendere E che sia veloce Almeno veloce Perché per Rotta E Marconi Per quanto non siano Dei brutti giocatori Non sanno difendere Non sanno difendere Adesso il Bari è a Meno 8 Siamo a Meno 8 E siamo addirittura Quarti Perché ci hanno raggiunto Monopoli E la Turris Che già comunque Ci aveva superato Perché siamo a stessi punti Ma abbiamo perso 3-0 A Torre del Greco Ricordiamocela questa cosa Ricordiamoci che abbiamo perso 3 gol dal Turris Ricordiamocelo Quando parliamo di andare A riprendere il Bari Ricordiamocelo Puntiamo a un secondo posto Poi vedremo le playoff Vediamo che si può fare Forza Palermo Puntiamo a un secondo posto